Capitolo 17. La difesa dell'uomo libero. Sul cadere del giorno, nella casa dei quaccheri, Rachele Halliday, muovendosi qua e là senza rumore, cercava nei suoi armadi tutto ciò che, ridotto alle più brevi dimensioni, poteva essere utile ai fuggetivi pronti alla partenza quella notte. Le ombre vespertine si stendevano dalla parte orientale e il disco rosseggiante del sole volgeva malinconico verso l'estremo lembo dell'orizzonte. I suoi dorati e quieti raggi entravano nella cameretta dove stavano seduti Giorgio e sua moglie. Ambe due apparivano in gran pensiero e segni di lacrime recenti si vedevano sulle loro guance. «Sì, Elisa», disse Giorgio, so bene che quanto dici è vero. Tu sei molto migliore di me e io procurerò di attenermi ai tuoi consigli. Voglio rendere la mia condotta degna di un uomo libero e di un cristiano. Il Dio sa che io ebbi sempre intenzione di far bene, che mi sforzai sempre di operare onestamente quando tutto era contro me. Ora io voglio dimenticare il passato e bandire ogni sentimento di odio e di leggendo la Bibbia e imparando a condurre una vita buona e onesta. «E quando saremo giunti al Canada», disse Elisa, «io potrò esserti di qualche aiuto. So cucire discretamente, lavare, stirare. Fra tutti e due potremo guadagnarci da vivere». «Sì, Elisa, e saremo felici perché saremo insieme, oh Elisa, se tutti potessero comprendere quanto è dolce un uomo il sentire che sua moglie e suo figlio gli appartengono. Io mi sono spesse volte maravigliato nel veder coloro che hanno il possesso intero e assoluto della loro moglie e dei loro figli prendersi briga e affanno d'altra cosa. Io mi sento ora ricco e forte, quantunque noi non abbiamo altra ricchezza che le nostre braccia. Null'altro mi sembra di aver da chiedere a Dio. Sì, io lavorai con infaticabile ardore tutti i giorni della mia vita e giunsi all'età di 25 anni senza possedere un quattrino, senza avere un tetto da ripararmi né un palmo di terra mia. Ma se io posso restare libero, non proverò che contentezza e gratitudine. Lavorerò e manderò il denaro per riscattare te e il nostro figliuolo. Quanto all'antico mio padrone egli fu pagato a venti doppi col mio lavoro, di quanto spese per comperarmi. Nulla più gli devo». «Ma non siamo fuori di ogni pericolo», disse Elisa. «Non siamo ancora al Canada». «È vero», riprese Giorgio, «ma mi sembra già di respirare un'aria libera che mi accresce forza». In quell'istante si udirono alcune voci nella stanza attigua che discorrevano vivamente e si sentì bussare all'uscio. Elisa fu colta dal tremito e l'esta, l'esta aprì. Erano Simeone e Halliday e con esso un fratello quacchero che gli presentò col nome di Finia Fletcher. Quest'ultimo era alto, di statura, magrolino, di capelli rossi e il suo volto esprimeva la perspicacia e l'accortezza. Egli non aveva l'aria placida, mite e un po' rustica di Simeone e Halliday, anzi pareva pieno di avvedimento e di risolutezza, come un uomo che conosce il proprio merito e si pregia di avere sguardo sicuro. Ciò formava un singolare contrasto con le ampie ali del suo cappello e con la sua formale fraseologia. «Il nostro amico Finia, disse allora Simeone, ha scoperto una cosa di non lieve importanza per te e per i tuoi, Giorgio. Sarà bene che tu la senta». «Ecco il fatto», prese a dire Finia, «ed è questa una prova del vantaggio che ha, come dissi sempre, l'uomo che dorme con un orecchio teso. Iersera mi fermai a una piccola locanda isolata dove, tu bello rammenti, Simeone, l'anno passato vendemmo un carico di frutta a una donnona che aveva un gran paio di pendenti. Io ero stanco del lungo cammino e dopo la cena mi sdraiai sopra un mucchio di sacchi in un angolo e mi copersi d'una pelle di bufalo per aspettare che il mio letto fosse pronto. Potevo forse fare a meno di addormentarmi subito». «Con un orecchio teso, però», disse pacatamente Simeone. «No, no, io dormivo di gusto e me ne stetti così per uno o due ore, affranto come ero di stanchezza, ma quando mi eri scossi un poco, mi avvidi che vi erano nella camera alcuni uomini che cioncavano e cinciavano seduti intorno a una tavola e siccome mi giunse all'orecchio la parola quacchero, stimai prudente, prima di alzarmi, sapere di che parlassero. «Sicché dunque», diceva uno, «essi sono nella casa del quacchero senza dubbio». «Allora mi teni quattro quattro ad ascoltare con ambo le orecchie e sentii che appunto si parlava di voi, così li udì svolgere tutti i loro disegni. Il giovane», dicevano essi, «sarà rimandato nel Kentucky a suo padrone, che ne darà un esempio tale che i negri perderanno la voglia di fuggirsene. In quanto alla tua donna, due di essi si proponevano di condurla a New Orleans e di venderla sul mercato per loro proprio conto e calcolavano di guadagnare 1600-1800 dollari. Il fanciullo poi dicevano che era già venduto a un mercante. Jim e sua madre dovevano essere riconsegnati al loro padrone. Dissero inoltre che due agenti di polizia di una piccola città vicina dovevano giungere in breve per aiutarli e che la giovane sarebbe condotta dinanzi a un giudice. Uno di loro, omiciattolo dalla parola melliflua, asserirà con giuramento che ella gli appartiene e se la farà consegnare per condurla poi nel sud. Essi conoscono la strada che noi dobbiamo fare stanotte e ci seguiranno in numero di sei o sette. Ora, che si deve fare?» Il gruppo, che si teneva in vari atteggiamenti dopo questa comunicazione, sarebbe stato degno d'essere ritratto da un pittore. Rachele Halliday, la quale stava preparando un'infornata di biscotti, levava al cielo le mani infarinate e il viso impresso di grande commozione. Simeone guardava profondamente penoso. Elisa erasi avvicinata al marito e lo fissava con uno sguardo pieno di ambascia inesprimibile. Giorgio, coi pugni stretti, con l'occhio sfavillante, provava impeti di furore ben naturali in un uomo che vede la propria moglie destinata all'incanto e il figlio consegnato a un mercante di creature umane e tutto ciò con la protezione delle leggi di un paese cristiano. «Che faremo, Giorgio?» domandò Elisa con voce semispenta. «So ben io quello che farò», rispose Giorgio ed entrato nell'attigua cameretta si diede a esaminare le sue pistole. «Ai ai!» esclamò Finia crollando il capo. «Tu vedi, Simeone, che cosa sta per accadere?» «Lo vedo», disse Simeone sospirando, «e prego Dio che non sia necessario ricorrere a questi mezzi estremi». «Non voglio che nessuno si esponga per me», rispose Giorgio. «Se non vi incresce di prestarmi la vostra vettura e darmi qualche indicazione, andremo noi soli. Jim ha la forza di un Ercole ed è fiero come la morte e la disperazione, e tale sono anch'io». «E va bene, amico», replicò Finia. «Ad ogni modo tu hai bisogno di una guida, combatti pure se te ne senti voglia, ma vi sono alcuni passi della strada che noi soli conosciamo». «Ah, io non voglio mettervi in un impiccio». «Mettermi in un impiccio», esclamò Finia con una certa espressione singolare e ironica. «Quando riuscirai a mettere me in un impiccio, abila compiacenza di farmelo sapere». «Finia è un uomo abile e prudente», disse Simeone. «Farai bene, Giorgio, di attenerti ai suoi consigli, ma soggiunse ponendo in atto amichevole la mano sulla spalla del giovane e aditandogli le pistole. Soprattutto non essere troppo corrivo, i giovani hanno il sangue che bolle». «Io non aggredirò alcuno», rispose Giorgio. «Non chiedo altro, se non che mi si permetta di abbandonare questo paese e me ne andrò in pace», ma soggiunse Tetro in volte con un fremito d'ira. «Una mia sorella fu venduta su quel mercato di New Orleans. Io so a quale scopo colà si vendono le donne e dovrei vendere mia moglie e disonorarla? Quando il Dio mi ha dato un paio di vigorose braccia per difenderla? No, no, Dio mi aiuti, io verserò fino all'ultima goccia del mio sangue. Prima di lasciarmi strappare dal seno mia moglie e mio figlio, potete biasimarmi?» «Nessuno al mondo può biasimarti. La carne e il sangue non potrebbero fare diversamente», replicò Simeone. «Guai al mondo per cagione dei suoi scandali, ma guai a colui dal quale deriva lo scandalo». «Non fareste altrettanto voi, se foste nei miei panni?» «Oh, prego Dio di non permettere che io sia tentato», rispose Simeone. «La carne è debole». «Io credo che la mia carne sarebbe forte abbastanza in un tal caso», disse Finia, scuotendo in alto due braccia simili alle ali di un mulino a vento. «Mi pare, amico Giorgio, che io mi assumerei ben volentieri il compito di prestarti aiuto se hai conti da regolare con qualcuno». «Se l'uomo dovesse mai resistere al malvagio, riprese a dire Simeone, questo certamente per Giorgio sarebbe il caso. Ma coloro che guidano il nostro popolo ci insegnano una via migliore, poiché la collera dell'uomo non opera la giustizia di Dio. Ma ciò è duro alla volontà corrotta dell'uomo. Né alcuno può assoggettarvisi se non ne riceve la grazia dall'alto. Quindi è bene pregare i Dio che non ci lasci tentare». «Questo appunto fu io», disse Finia. «Ma se la tentazione fosse troppo forte, stiano essi in guardia, ecco». «Si vede bene che tu non sei nato qua, che ero amico mio», disse Simeone sorridendo. «L'antica natura non è in te venuta meno». E diceva è vero, Fini era stato a lungo un buon abitante dei boschi, un gran cacciatore dai polsi gagliardi dall'occhio sicuro. Ma essendosi invaghito di una bella ragazza quacchera, fu mosso per sposarla ad entrare nella società degli amici. Benché egli ne fosse un membro onesto, sobrio e operoso, né gli si potesse rimproverare alcun fallo, tuttavia quelli fra loro che più aspiravano alla perfezione. E beh, trovavano che nel complesso egli lasciava molto a desiderare. «L'amico Finia vuole sempre avere i suoi modi particolari», disse Rachele sorridendo. «Ma noi tutti sappiamo che alla fin dei conti ha ottimo cuore». «Non sarebbe meglio ora», disse Giorgio, «affrettare la nostra fuga. Io mi sono alzato alle quattro del mattino e sono venuto qui a Briglia Sciolta. Abbiamo due o tre ore di vantaggio su di loro se pongono tosto ad effetto i loro disegni. Ad ogni modo sarebbe cosa pericolosissima partire in anzinotte. Vi sono nei villaggi per cui dobbiamo passare alcuni tristi che non si periterebbero a molestarci se ci vedessero, ma fra due ore credo che potremmo avventurarci. Intanto io voda Michele Cross per dirgli che ci segua col suo cavallo e tenga bene aperti gli occhi sulla strada per avvertirci se vedrà gli inseguitori. Il cavallo di Michele non la cede a nessun altro per velocità e può raggiungerci facilmente quanto vi sia pericolo. Poi io mi recco ad avvisare Jim e la vecchia che si tengano pronti e a vedere se i cavalli sono anch'essi preparati. Noi possiamo sperare di giungere alla prossima stazione prima che coloro si mettano sulle nostre tracce. Dunque, abbi coraggio, amico Giorgio, non è questa la prima volta che io sono implicato in faccende di questo genere». Ciò detto, Finia si chiuse la porta dietro. «Finia è un uomo molto accorto», disse Simeone, «egli farà per quattro in tuo vantaggio». «Quello che mi attrista di più», disse Giorgio, «è il pericolo a cui vi esponete». «Parliamo d'altro, amico Giorgio. La nostra coscienza ci indica la via che dobbiamo tenere. Ne possiamo operare altrimenti. Su via, madre, affretta i tuoi preparativi», soggiunse voltandosi a Rachele. «Non bisogna lasciar partire questi amici a digiuno». Mentre Rachele e i suoi figli mettevano nel forno i biscotti, cuocevano il prosciutto e i pollastri e preparavano quant'altro correva, Giorgio e sua moglie, soli nella loro cameretta, discorrevano fra loro e confondevano le loro lacrime, pensando che potevano in breve essere per sempre separati. «Elisa», diceva Giorgio, «tutti coloro che hanno amici, case, terre e denaro non possono amarsi quanto noi ci amiamo, che null'altro abbiamo di bene se non l'amor nostro reciproco. Prima di conoscerti io non ero stato amato da alcuno, forché dalla mia povera madre e da mia sorella. Vidi la mia sventurata Emilia quella mattina in cui il mercante di negri la menò via seco e la venne a me, che ero sdraiato in un angolo per dormire, e mi disse, «Povero Giorgio, la sola tua amica ti abbandona, che sarà di te, povero figliuolo?». Mi alzai, le gettai le braccia a collo piangendo e singhiozzando e della pure piangeva. Trascorsero dieci lunghi anni senza che io udissi più, dopo quelle, altre parole di affetto. Il mio cuore si inaridiva e pareva ridotto come cenere quando ti incontrai e tu mi amasti e il tuo amore mi fece rivivere. Da allora io mi sono sentito un altro uomo. E adesso, Elisa, io verserò tutto il mio sangue prima che tu sia strappata da queste braccia. Per impadronirsi di te bisognerà passare sul mio cadavere. «Oh, Signore, pietà di noi!» esclamò Elisa singhiozzando. «Lasciare questo paese insieme è tutto ciò che desideriamo!» «I Dio sta per loro», disse Giorgio, «più per sfogare la sua amarezza che per parlare alla moglie. Ma perché mai permette simili iniquità? E costoro osano dirci che la Bibbia li approva!» Ah, certamente! Hanno la forza, sono ricchi, prosperosi e felici, sono membri di una chiesa e sperano di andarsene lassù dopo aver fatto vita beata nel mondo. Tutto favorisce i loro desideri. E intanto poveri e onesti e fedeli cristiani, cristiani buoni confessi se non migliori, sono calpestati nella polvere dai loro piedi. Essi li vendono e li comprano, fanno traffico del loro sangue, delle loro lacrime, dei loro gemiti e Dio li lascia fare. Amico Giorgio, disse Simeone dalla cucina, ascolta questo salmo che forse ti farà per bene. Giorgio si avvicinò all'uscio ed Elisa, tergendosi le lacrime, si avanzò anch'ella per ascoltare. Simeone lesse. «Or quanto a me quasi che inciamparono i miei piedi, come nulla mancò che i miei passi non sdrucciolassero, perciò che io portavo invidia agli insensati, veggendo la prosperità degli empi, perciò che non vi sono alcuni legami alla loro morte e la loro forza è prosperosa. Quando gli altri uomini sono in travagli, essi non vi sono punto e non provano i flagelli cui gli altri uomini sono esposti. Perciò la superbia li cinge a guisa di collana, la violenza li involge come una veste, gli occhi escono loro fuori per lo grasso, essi hanno più di quanto il cuore possa desiderare, sono dissoluti e per malizia discorrono di oppressione. Il loro linguaggio è orgoglioso e superbo, perciò il popolo di Dio riviene a questo veggendo che l'acqua è lordata a bere a pien calice. E, dice, come può essere che Dio sappia ogni cosa e che vi sia conoscimento nell'Altissimo? Dopo aver terminato, concluse, non sono questi, Giorgio, i tuoi stessi pensieri? Sì, in verità, rispose Giorgio, e vi porrai sotto il mio nome. Ebbene, ascolta ancora, disse Simeone, io ho dunque pensato di voler intendere questo, ma la cosa mi è parata molto molesta. Infino, attanto, che sono entrato nei santuari di Dio, e ho considerato quale sarà il fine di coloro. Certo, tu li metti in sdruccioli, tu li trabocchi in ruine, come sono egli stati distrutti in un momento, come sono venuti meno e sono stati consumati per casi spaventevoli. Sono come un sogno, dopo che l'uomo si è destato, oh Signore, quando tu ti risveglierai, tu sprezzerai la loro vana apparenza. Ma io sono stato del continuo teco, tu mi hai preso per la mano destra, tu mi condurrai per lo tuo consiglio e poi mi riceverai in gloria. Egli mi è buono da accostarmi a Dio, io ho posto nel Signore e Dio la mia confidenza. Queste parole di verità, pronunciate dalla voce solene di un buon vecchio, penetravano come una musica sacra nell'animo turbato di Giorgio. Alla collera che gli fiammeggiava in viso poco prima, era succeduta un'area di sommissione e di mitezza. Se non vi fosse altra via e altra vita che questa nel mondo, Giorgio riprese a dire Simeone, tu potresti domandare con ragione dov'è Dio? Ma i poveri e i disprezzati di quaggiù sono spesso da lui destinati a popolare il suo regno. Poni dunque ogni fiducia in Dio e quantunque dura sia la tua sorte sulla terra, tutto andrà bene altrove. Se queste parole fossero state dette da qualche predicatore di facile eloquenza, avvezzo a spacciare divoti fiori di retorica per uso di coloro che gemono nell'infelicità, forse non avrebbero prodotto grande impressione, ma venendo dalla bocca di un uomo che ogni giorno si esponeva a una multa o alla prigione per la causa di Dio e dell'umanità avevano una forza prodigiosa e i due fuggitivi ne trassero nuova calma e vigore. Rachele prese affettosamente per la mano Elisa e la condusse alla tavola della cena. Quando furono tutti assisi, entrò a Rutte e disse, ho portato delle calzettine per il fanciullo, ve ne sono tre paia di lana fina che tengono ben caldo. È sì rigido il clima del Canada. Coraggio Elisa, soggiunse passando dalla parte dove ella era seduta e stringendole la mano cordialmente. Indi, messa una pasta dolce nella manina di Enrico, ho portato anche una piccola quantità di queste per lui, disse, cavando con difficoltà dalla sua sacchetta l'involtino. I bimbi, lo sai, hanno sempre appetito. Oh, grazie, esclamò Elisa con un sorriso, grazie, siete troppo buona. Resta a cena con noi, Rutte, disse Rachele. Oh, non posso proprio. Ho lasciato John a casa col bambino e coi biscotti nel forno, bisogna che io ritorni presto, se no egli lascerà bruciare i biscotti e darà al bimbo tutto lo zucchero che è nella zuccheriera. Così fa il più delle volte, disse ridendola qua che era piccoletta. Dunque, addio Elisa, addio Giorgio, il Signore vi conceda un felice viaggio. E Rutte uscì trotterelando dalla stanza. Pochi istanti dopo la cena, una grande carretta coperta si fermò dinanzi alla porta. La notte era lucente di stelle e Finia balzò leggermente dal suo sedile per collocare dentro il legno i viaggiatori. Giorgio uscì dalla casa per il primo, col suo figlioletto in braccio e tenendo all'altro braccio la moglie. Il suo passo era fermo e il viso tranquillo e risoluto. Rachele e Simeone li seguivano. Scendete per un istante voi, disse Finia a coloro che erano già nella carretta, affinché possa accomodare il sedile di dietro per le donne e il fanciullo. Ecco due pelli di bufalo, disse Rachele, accomodatevi bene, avrete da passare una triste notte. Jim salto giù per il primo e aiutò la vecchia madre a scendere. La poveretta si teneva forte a suo braccio e gettava intorno a sé sguardi pieni di ansietà, come se avesse creduto in ogni momento di veder comparire i suoi persecutori. Jim, le tue pistole sono in ordine, domandò Giorgio con voce sommessa ma ferma. Sì, certo, rispose Jim. E sai quale uso dobbiamo farne se quelli ci raggiungono? Senza dubbio, rispose Jim, gonfiando il suo largo petto e mandando un lungo respiro. Credi forse che io voglia lasciar riprendere da loro mia madre? Durante questo breve dialogo Elisa si era accomiatata dalla sua buona ospite e Simeone la fece salire nel carro. Ella, cacciatasi in fondo col figlioletto, si assise sulla pelle di bufano. La vecchia fu collocata a suo fianco, indi Giorgio e Jim sedettero di rimpetto ad esse e Finia montò a cassetta. Addio amici, disse Simeone. Dio vi benedica, risposero tutti dal loro posto e il veicolo si sferrò con gran rumore sulla strada indurita dal gelo. Non vera modo di legare conversazione. Tanto facevano strepito le ruote per le ineguaglianze del terreno. La carretta correva ora attraverso un folto bosco, ora per immense e monotone valli e pianure, mentre scossi, trabalzati, i viaggiatori vedevano fuggire la campagna dietro di sé. Il fanciulletto si era addormentato e riposava sulle ginocchia della madre. La povera vecchia perdette a poco a poco la paura e anche Elisa, nonostante le sue inquietudini, con l'avanzarsi della notte sentiva chiudersi gli occhi della stanchezza. Finia sembrava il più sveglio della comitiva e per ingannare il tempo della lunga veglia imitava col fischio certe aree un po' profane per un quacchero. Verso le tre Giorgio udì distintamente il veloce scalpitare di un cavallo a qualche distanza dietro loro. Tosto diè nel gomito a Finia il quale fermò i cavalli e si pose in ascolto. Deve essere Michele e gli disse mi par di riconoscere il galoppo del suo cavallo. Così dicendo si alzò e tese l'orecchio ansiosamente. Un uomo che veniva galoppando con tutta celerità comparve allora tra quelle ombre trasparenti sopra una lontana collinetta. è lui è lui credo disse Finia. Giorgio e Jim balzarono fuori del veicolo prima di riflettere che cosa dovessero fare. Tutti restarono in un silenzio affannoso con gli occhi rivolti dalla parte del messaggero. Esso è disceso in una valle dove più non possono vederlo ma odono tuttora il galoppo velocissimo del cavallo. Eccolo finalmente ricomparso sopra un'altura già molto vicina. sì sì è Michele disse Finia. Ehi Michele per di qua. Finia sei tu? Sì che nuove si avvicinano. Di filato dietro noi sono otto o dieci furfanti ubriachi di acquavite che bestemmiano e spumano come tanti lupi. In questo mentre la brezza recò ai fuggitivi un suono lontano dello scalpitare di più cavalli insieme. Risalite presto figlioli disse Finia. Se dobbiamo combattere andiamo un altro poco innanzi. George e Jim tornarono dentro con un salto. Finia lanciò i cavalli di galoppo e Michele li seguì da vicino. La carretta andava a sbalzi, volava sul terreno gelato ma il rumore degli inseguitori diventava sempre più distinto. Le donne lo intesero e volsero indietro uno sguardo atterrito e se videro un gruppo di uomini a cavallo che spiccavano sul cielo rosseggiante alla prima luce dell'alba. Eccoli sopra una collina più prossima e già pare che abbiano visto il carro da lungi per la tela bianca di cui è ricoperto. Brutali grida di vittoria sono portate dal vento ai fuggitivi. Elisa si sente venir meno nello stringersi al petto. Il fanciullo, la vecchia prega e singhiozza. George e Jim afferrano convulsamente le loro pistole. Già i persecutori venivano guadagnando terreno ma la carretta facendo una brusca svolta condusse i fuggiaschi presso una catena di rupi scoscese che mole e smisurate in forme sorgevano in mezzo alla pianura. Quell'ammasso isolato prometteva un nascondiglio sicuro. Finia conosceva abbastanza bene il luogo per averlo più volte esplorato nei tempi in cui andava a caccia e appunto per giungere Colà aveva forzato i cavalli a quella corsa precipitosa. Ci siamo, disse fermando i cavalli e balzando a terra. Su via. Lesti, scendete e venite meico su quelle rupi. Michele, lega il tuo puledro alla carretta, vada a Maraia e digli che corra coi figli per dire quattro parole a quei furfanti. In un batter d'occhio la carretta rimase vuota. Orsù, disse Finia recandosi in collo Enrichetto, ciascuno di voi prenda cura di una delle donne e raccomandatevi alle vostre gambe se vi accara la libertà. Non c'era bisogno di esortazioni. Più presto che non si dica i fuggitivi passavano la siepe e correvano verso la rupe, mentre Michele, sceso di selle legato al suo cavallo alla carretta, si allontanava rapidamente. Avanti, avanti, esclamò Finia appena ebbero toccato le prime falde del dirupo e poterono vedere al misto chiarore delle stelle e dell'alba la traccia di un sentiero dirupato che conduceva in alto. Su, lesti, lesti, avanti. Finia montava innanzi a tutti, arrampicandosi a guisa di una capra col fanciulletto nelle braccia. Jim lo seguiva portando sulle spalle la tremante sua madre. Giorgio ed Elisa formavano la retroguardia. Gli uomini a cavallo scesero la siepe e vociferando e bestemmiando balzarono di sella per seguirli. I fuggiaschi, in pochi momenti di faticoso cammino, erano riusciti sopra una spianata e procedevano uno dopo l'altro per un angusto sentiero, quando ecco trovano interrotta la via da un burrone e da una profonda fenditura larga circa quattro piedi. Di là da questa eravi un masso perpendicolare come la muraglia di una fortezza e sorgeva isolato formando un precipizio di circa trenta piedi. Finia saltò al burrone e pose a terra il fanciulletto sopra una piccola spianata coperta di muschio. Ora tocca a voi, saltate o siete perduti, disse ai suoi compagni, e questi, uno dopo l'altro, saltarono felicemente. Alcuni macigni vi ammucchiati formavano una specie di riparo che li nascondeva allo sguardo di coloro che stavano in basso. Bene, eccoci tutti, disse Finia dando un'occhiata per di sopra ai macigni verso gli assalitori che tumultuosamente ascendevano per l'angusto sentiero. Ci piglino ora se possono. Per raggiungerci converrà che si inoltrino a uno a uno fra queste due rocce. Attiro delle vostre pistole, amici miei, vedete? Vedo, rispose Giorgio, poiché ora è affare nostro. Lasciate che ne corriamo tutti i rischi. Fa pure, Giorgio, disse Finia masticando alcune foglie di gelso selvatico. Ma tu consentirai che io diriga le operazioni? Oh, guarda, i malandrini si sono fermati a deliberare e voltano la faccia in alto come galline che vogliano lanciarsi a volo sulla pertica. Non faresti bene a dir loro una paroletta di avviso prima che comincino ad arrampicarsi e avvertirli bellamente che se vengono su riceveranno una buona pallottola ciascuno? La banda degli assalitori, che ormai si scorgevano distintamente alla luce dell'aurora, si componeva dei nostri vecchi conoscenti Tom Locker e Marx, accompagnati da due agenti di polizia e da alcuni vagabondi trovati alla taverna, i quali, sedotti a forza di acquavite, erano stati lietissimi di partecipare a una spedizione di quella sorta. Ebbene, Tom, ecco i tuoi conigli presi nella tana, disse uno dei forfanti. Sì, li ho visti montare super di qua ed ecco un sentiero, disse Tom Locker. Io sono d'avviso che si debba montare dietro a loro, non possono più fuggire, presto li avremo in nostra mano. Però essi potrebbero tirare su di noi di dietro i macigni, disse Marx, e questo sarebbe veramente un brutto affare, mi capite? Boh, siamo sempre alle solite, tu non pensi che a salvare la pancia per le pagnotte. Marx, non c'è pericolo, i neri hanno sempre paura. Non so perché non dovrei badare alla pelle, disse Marx, è la miglior cosa che io abbia, i neri talvolta si battono come diavoli. In quell'istante, Giorgio si affacciò dall'alto della rupe con voce forte e sicura, gridò, signori, chi siete e chi cercate? Cerchiamo, rispose Tom Locker, una banda di neri fuggitivi, cioè Giorgio Harris, Elisa Harris, il loro figliuolo e Jim Selden con una vecchia. Abbiamo qui degli ufficiali di giustizia e un mandato di cattura, ne dovremo correre troppo per riaverli, capite? Non siete voi, Giorgio Harris, appartenente al signor Harris del Kentucky, con te a Shelby? Io sono Giorgio Harris, un certo signor Harris del Kentucky mi chiamava proprietà sua, ma ora io sono un uomo libero. Premo il libero suolo che Dio concesse a tutti gli uomini, mia moglie e il figlio nostro, posso dirgli miei veramente, Jim e sua madre sono qui. Abbiamo braccia per difenderci e ci difenderemo, potete venire su se vi aggrada, ma il primo di voi che si avanzi a tiro delle nostre pallottole è un uomo morto e la stessa sorte toccherà gli altri. E via, giovanotto, non fate tante smargiassate, disse un uomo grosso e burbanzoso facendosi avanti e soffiandosi il naso fragorosamente. Non è questo il modo di parlare, vedete che noi siamo ufficiali di giustizia, abbiamo la legge e il potere dalla nostra parte. Fareste dunque bene ad arrendervi senza usare le cattive, tanto ci sarete ugualmente costretti alla fine. So bene che avete dalla parte vostra la legge e il potere, riprese a dire Giorgio acerbamente. So che voi volete strapparmi la moglie per condurla al mercato di New Orleans e vendere il mio figliuolo come un vitello a un mercante e rimandare la madre di Jim al brutale che la flagellava perché non poteva fare lo stesso col suo figliuolo. So che volete restituire Jim e me a coloro che chiamate nostri padroni, affinché possano incrudelire sopra di noi con la sferza o con la tortura e le vostre leggi sono pronte a sostenervi. Oh infamia per voi e per esse, ma non ci avete ancora. Noi non riconosciamo le vostre leggi, rinneghiamo il vostro paese, noi siamo liberi al pari di voi e per il gran Dio che ci creò vogliamo combattere per la nostra libertà fino alla morte. Giorgio stava ritto alla sommità della rupe mentre faceva la sua dichiarazione di indipendenza. La luce dell'aurora mandava i suoi raggi sopra la bruna fronte, i suoi occhi sfavillavano di ira e di disperazione e come se gli si appellasse dall'uomo alla giustizia di Dio sollevò le mani al cielo mentre parlava. Il suo atteggiamento, il suo sguardo, il tuonare della sua voce ridussero per un istante a silenzio gli assalitori. Nel coraggio e nella risolutezza vi è qualcosa che fa violenza agli animi più duri. Marx fu il solo che non sentì quest'impressione. Caricò tranquillo la sua pistola e nel breve silenzio che succedette a suo parlare prese la mira contro di lui. Ecco, disse tirando il colpo, fa lo stesso ricondurlo vivo o morto nel Kentucky e nettò con la manica del suo abito la canna della pistola. Giorgio fece istintivamente un balzo indietro. Elisa mandò un grido, la palla aveva sfiorato i capelli del giovane e fischiando vicino all'orecchio di sua moglie era andata a conficcarsi in un albero dietro di loro. Non è niente Elisa, disse Giorgio con tutta calma. Faresti meglio a metterti al sicuro invece di parlamentare, disse Finia, sono schiuma di ribaldi. Ora Jim, vada bene che le tue pistole siano in buono stato, disse Giorgio, e tieni l'occhio sullo stretto passaggio. Il primo che si avanza lo colpisco, tu concerai a dovere il secondo e così di seguito. Non bisogna, capisci, perdere due palle per uno solo. Ma se tu non lo cogliessi? Lo coglierò, disse freddamente Giorgio. Benissimo, a buone disposizioni, mormorò Finia fra i denti. Gli assalitori, dopo che Max ebbe tirato il colpo, stettero un po' irrisoluti. Credo che uno di loro sia rimasto ferito, disse uno degli uomini. Ho inteso un grido. Voglio andare a vedere, disse Tom. Io non ebbi mai paura dei neri, ne l'avrò oggi. Chi viene con me? Domandò arrampicandosi su per la rupe. Giorgio udì distintamente quelle parole e puntò l'arme dove il primo assalitore doveva affacciarsi. Uno dei più animosi tenne dietro a Tom e dato così l'esempio tutti cominciarono a salire con i piedi e con le mani. Gli ultimi sospingendo i primi, un po' più forse che questi non avrebbero desiderato. Dopo un istante di aspettazione, il corpo massiccio di Tom comparve quasi all'orlo della fenditura. Giorgio lasciò andare il colpo. La palla si addentrò nel fianco di Locker, il quale, sebbene ferito, non volle indietreggiare, ma con un fiero grido simile al mugito di un toro furibondo, saltò per precipitarsi in mezzo agli assediati. Amico, disse Finia facendo un rapido passo avanti e dandogli una spinta con le lunghe sue braccia, qui non c'è bisogno di te. E Tom rotolò giù nel burrone fra sterpi, alberi, cespugli e pietre di velte finché giacque, tutto pesto e sanguinante, a una profondità di trenta piedi. La caduta lo avrebbe ucciso se non fosse stata resa meno rapida dai rami di un albero a cui le sue vesti si impigliarono, ma ad ogni modo egli percosse il fondo più duramente che non avrebbe desiderato. Dio ci scampi, sono veri diavoli, disse Marx, dirigendo la ritirata giù per le rupi con maggiore alacrità che non aveva messa nella scendere, mentre tutta quella cozzaglia si precipitava dietro a lui confusamente. Compagni, disse Marx, andate ora voi altri a raccogliere quel povero Tom laggiù mentre io monto a cavallo e corro a chiedere aiuto. E senza prendersi briga delle fischiate e delle beffe dei suoi complici, Marx salì in arcione e via di galoppo. Si è mai veduto un codardo simile, disse uno di quegli uomini, implicarci in questa maledetta faccenda e poi gettarcela sulle spalle e fuggire. Intanto bisogna che andiamo a raccogliere l'amico, disse un altro, sia morto vivo che io arrabbi se me ne importa un fico. Guidati dai gemiti di Locker, i suoi compagni pervennero strisciando fra le prunaie e i cespugli al luogo dove giaceva l'eroe, tutto pesto, urlando e bestemmiando con uguale vehemenza. Eh, non gridatesi forte, Tom, disse uno di loro, siete ferito gravemente? Che lo so io, maledetto quell'indemoniato quacchero, aiutatemi un po' a mettermi in piedi, se non era costui, ne avrei spinto qualcuno in questo fondo per vedere come vi si sarebbe adagiato. Con grandi sforzi gemiti l'eroe caduto pervenne a rialzarsi sulle gambe e, condotto da due compagni che lo sostenevano sotto le ascelle, potei giungere al luogo dove erano i cavalli. Almeno vi riuscisse di condurmi laggiù a quell'osteria, datemi un fazzoletto o altro per turare la piaga e fermare questo diabolico salasso. Giorgio si protese a guardare le vide che cercavano di porre in sella il grosso corpo di Locker. Dopo due o tre inutili prove, quelli barcollò e diede uno stramazzone per terra. Oh, io spero che non sia morto, esclamò Elisa che stava osservando ogni cosa dall'alto. Perché no, disse Finia, avrebbe avuto la sorte degna delle opere sue. Ma dopo la morte viene il giudizio, replicò Elisa. Sì, entrò a dire la madre di Jim, la quale durante tutta quella scena non aveva cessato di gemere e di pregare alla sua guisa da metodista. È un istante assai terribile per la sua povera anima. In fede mia, ecco che lo abbandonano, disse Finia. Ed era la verità. Dopo avere ansiosamente parlato fra loro, consultandosi, quegli uomini si riposero tutti in sella e si allontanarono velocemente.